Ciao a tutti gli amici della Restauro d'Epoca, oggi voglio farvi vedere in diretta come agisce lo sverniciatore sul legno. Sto restaurando un tavolo in noce nazionale, peraltro verniciato maldestramente con della vernice a spruzzo e sto facendo agire piano piano, perché lo spessore della vernice è veramente molto alto, sto facendo agire piano piano lo sverniciatore. Adesso voglio farvi vedere in diretta come agisce il mio sverniciatore, quello professional, che utilizzo io per i miei restauri, esattamente in diretta, guardate. Ecco il tavolo che sto sverniciando, come potete vedere l'effetto prorompente dello sverniciatore che sta agendo su questa vernice. Piano piano lui effettua il suo adempimento e poi con una spatola faremo saltare, farò saltare tutta questa vernice che vedete. Poi ovviamente darò delle altre mani di sverniciatore che poi vado a rifinire, come voi molti di voi sapete, con la regina, in questo caso di rana da cacciaio grossa. Grazie a tutti. Sopra o sotto questo video troverete il link di accesso alla Masterclass gratuita del mio corso per principianti, è un corso fighissimo, già molti di voi lo hanno acquistato, sono 50 video multimediali che vi porteranno da principiante al restauratore in soli tre mesi, peraltro potrete potrete accedere a un gruppo Facebook riservato alla DAT, vi raccomando, gustatevi questi tre video gratuiti e dopodiché guardate il programma del corso e se decidete di farlo farete una cosa fighissima appunto per entrare nel mondo di restauro che passione. A presto, ciao!